Perché una famiglia dovrebbe staccarsi dai gas e utilizzare l'energia elettrica per riscaldare casa? Buongiorno a tutti, sono Samuele Trento, mi occupo di pompe di calore dal 2012. Vorrei darvi e trasmettervi gli strumenti utili per poter aiutare anche i vostri clienti a trasformare edifici esistenti, anche con i pianti a radiatori, magari in edifici completamente elettrici, quindi senza utilizzo di gas e di esodo. L'obiettivo del corso di oggi è sradicare l'idea che le pompe di calore funzionano solo sugli inchianti a bassa temperatura e soprattutto non solo sulle case nuove, ben isolante.